Ben trovati a Sport News. Dopo una lunga analisi tecnica Gianmarco Tamberi ha deciso di affidarsi a Giulio Ciotti, attuale allenatore della Nazionale per il settore salto in alto. Professionista molto noto nell'ambiente dell'atletica leggera, nonché ex atleta di salto in alto, Ciotti vanta un personale di 2,31 metri e in carriera ha collezionato sei titoli di campione italiano assoluto. Da grande appassionato intenditore di questo sport è riuscito sin da subito ad ottenere risultati anche come allenatore, riuscendo a portare per la prima volta un atleta sanmarinese alle Olimpiadi, in questo caso a Rio 2016. Continua l'attività nelle scuole della città di Recanati dopo l'incontro con gli studenti dei licei, mister Giovanni Pagliari dell'Unione Sportiva Recanatese ha incontrato i ragazzi del professionale iscritti all'indirizzo sportivo attivo ormai da tre anni in città. Il mondo del calcio con le sue potenzialità e contraddizioni, il miracolo della Recanatese protagonista nel professionismo, la gestione del gruppo, il grande spazio dato ai giovani. Gli studenti saranno poi ospiti della Recanatese domenica al Nicola Tubaldi in occasione della sfida contro l'Alessandria. E con quest'ultima notizia di sport termina questa edizione odierna del Tg, grazie per l'ascolto e buon proseguimento di serata.